La Regione ha annunciato e deliberato il fondo perequativo per compensare i comuni siciliani della diminuzione di fiscalità locale per le categorie produttive. Si è già raggiunta l'intesa da tempo tra la Regione e l'Anci che rappresenta tutti i comuni siciliani. Attendiamo che la Regione erochi queste somme, essendo già state quantificate comune per comune. Ma la mancata disponibilità di queste risorse ovviamente blocca la possibilità di detrazione della Tari e delle altre imposte locali. Per questo ho concordato con il Presidente del Consiglio Comunale una seduta di Consiglio Comunale che possa prevedere un eventuale spostamento ad alta data entro il corrente esercizio finanziato 2020, cioè entro la fine del mese di dicembre per consentire nel frattempo alla Regione di fare finalmente prevenire queste risorse e in questo modo far godere delle detrazioni gli operatori economici così fortemente danneggiati.